Scusa, Maurizio, lui ha parlato di casa, ha detto o no casa di tolleranza? Ha detto nella casa, in una coppia serve la tolleranza No, casa di tolleranza e ti dirò di più perché lui dice queste cose perché è un maiale No, no, lei voleva dire quando sarà in luna di miele e io gli ho chiesto mi lascerai mai maiale? Maiale? Ecco lui si chiama male Lui è Alessandro Sei un vipera te, vipera la mia mamma, non glielo dici, hai capito o no? Serpente a sonagli? Serpente a sonagli sì, può, può, serpente a sonagli ci può stare Comunque ascolta No, no, ascoltami te, ascoltami te, te quando torni dal lavoro tu sei nervoso e non ti si sta mai vicino e io non ne posso più Oh ciccia, ma io faccio un lavoro e ho responsabilità, ho 30 persone sotto di me Ma, 30 persone sotto di lui, mica vorrei dire che tu sei capace a comandare 30 persone No, io sto in quarto piano e loro sono in terzo piano ma forse pensandoci bene sono anche 40 o 50 No, io sto in quarto ma forse pensandoci bene sono anche 40 persone sotto di me